Ma perché noi siamo fidanzate, raga, mi giuro Noi siamo fidanzate, è una roba che io non so come sapere Io ho dieci fidanzate, ok? Dieci È assurdo Cioè, infatti sono stanca Infatti i uomini non se ne vedono Ma perché non c'è tempo per i uomini? No, ma non c'è tempo per i uomini È quello, raga, è quello, è veramente quello La roba che ha troppo amiche Sì, pronto? Perfetto, sconoscete, buongiorno La chiamiamo da Milano, per conto di Estradio Signore, lei sta parlando con... Nina? Diora? Alice? La informiamo che il podcast si sta per ascoltare Lo rispetta la privacy di persone fatte e citati Ed è completamente ego-riferito Digiti uno per continuare Ma perché? Benvenuti ragazzi! Ciao a tutti, ben giornati Ci hanno detto di fare questa cosa, la facciamo? Cosa? Prima di iniziare questa puntata dovete iscrivervi al nostro canale Ah, è vero! Ci vedete di farlo, è vero! È veramente? Sì, sì Allora, ora iscrivetevi al canale Perfette Sconosciute Per favore, ragazzi! Per favore! YouTube e Estradio Ma perché ci hanno detto che il 90% di chi ci guarda gli episodi 80% Ma chi non ha detto queste cose? Perché non lo so? Enrico in riunione mentre tu non c'eri Eri in università, grazie Ok, quindi niente Questo era un po' No, no, stai dicendo l'80% L'80% di chi ci guarda gli episodi non ci segue Ma poi non vi costa niente Non sei un like! Ma metti il like, Giovanna! Dai, Giovanni! E dai, mettilo questo like, eh! Che noi così andiamo in vacanza Sicuramente È un pollo Giovanna è un pollo Giovanni dai per favore Metti un pollo, Giovanni Va bene Ozi, silly mood Sì, malissimo Sì, malissimo Allora, la puntata di oggi è un'edizione speciale dei domande della domenica Per chi ci segue, appunto, sa che noi quasi tutte le domeniche facciamo le domande della domenica Quindi facciamo domande Cioè voi fate domande e noi rispondiamo Questa volta abbiamo detto perché non farla, fare una cosa un po' più strutturata Quindi fare proprio una puntata Perché non fare le pazze? Esatto Ma perché noi chiamateci matte E allora, la puntata di oggi saranno risposte e argomentazioni alle vostre suggestion, alle vostre question Perché domenica è un giorno di riflessione Esatto Io mi sento un pochino bassa Però scialla, dite Di volume Di volume Del microfono Però vabbè, posso dire meglio quasi Sai che forse è meglio Perché, allora, premessa generale Cioè, oltre che il silly mood Io soprattutto sono un po' in hangover mood Perché ieri c'era la laurea di Mede Bravo Mede che sei laureato No, non sono ancora laureato Non si è laureato Si è laureato l'oledì Bravi Mede, Edo però Bravi, bravissimi Bravi ragazzi Complimenti Ci siamo divertiti tanto Abbiamo bevuto tanto Sì Infatti Scusate per lo shitposting Colpa di Viola Io ieri ero un po' cresci Ieri sera Ieri era matta Non ha mai postato la sua vita Qualcuno ha eliminato una storia che ha messo Quale? È eliminata tu? No No, nessuno Io ho messo una storia E oggi mi sono svegliata E qualcuno la vi va eliminata Ho detto Non ci credo Ci sta comunque Enrico forse È stragiusto Il capo Allora, molte domande Che ci avete fatto Poi in realtà magari ne arriveranno altre nel mentre Comunque sono tutte che riguardano molto il futuro L'università Il cambiamento liceo-università Quindi direi che facciamo un po' Le leggo ora tutte insieme Esatto, campo sematico Esatto 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 Quindi com'è che hai messo la vostra vita dal liceo all'Uni E poi viaggi di maturità Come avete fatto a scegliere l'università Io sono in crisi Tutte queste domande qua Scegliamone una Io direi scelta dell'Uni Sì 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 Comunque puoi sapere rispondere a tutte Tanto magari alcune abbiamo più cose da dire Alcune meno Esatto Allora Chi parte? Allora scelta dell'Uni E in generale il cambiamento liceo-università Allora è un grande cambiamento Secondo me Ma non così grande Nel senso che la vita cambia completamente No scusa scusa Non è che ti giudico Eh no infatti No che la vita cambia molto Perché comunque non Dipende che università fai Però comunque L'università normale Tendenzialmente non hai frequenza obbligatoria Ti gestisci da solo Quindi quello è un po' più impegnativo Perché ti rendi conto che fai le cose per te E non per gli altri E se non le fai Non c'è nessuno che Ti rompe le palle Che non le stai facendo E per cui Questa è anche una cosa Che ti potrebbe un po' fottere Nel senso che Poi magari sei lì che non Non fai niente Che anche fa E E poi In generale Secondo me la scelta dell'università È una cosa che Viene un po' Sopravvalutata Vero Nel senso che Concordo No è molto importante Perché è importantissimo E dipende Poi magari sempre Sono comunque tre anni della tua vita Tendenzialmente Quindi è un po' di tempo È un investimento anche di soldi E di robe Però è ancora una cosa Che non è Che la scelta che fai Ti precluderà Tutto nel tuo futuro Dipende ovviamente Di cosa si sta parlando Fai giurisprudenza Medicina Queste cose qua Ovviamente Prendi una strada E tendenzialmente È un po' quello Poi può succedere tutto nella vita Però tendenzialmente è quello Altre facoltà Comunque Come economia Filosofia Lettere Design Design Scrittura Tutte le altre cose Comunicazione Beh Design invece Cavolo È stra Specifica No è vero È specifico Però è quella cosa Per cui comunque Dopo puoi trovare Sbocchi anche Veramente tanto altro Fai un master in marketing E poi andare a fare altre cose Ovviamente sono alcune Che sono un po' più specifiche Alcune meno Però è una cosa Che secondo me Bisogna un po' seguire l'istinto Perché tanto Non avrai mai La palla di vetro Che ti dirà Qual è il tuo futuro Sicuramente Seguire un po' l'istinto È un po' quello che senti Che Cioè senza farsi troppo Troppo ansiare Da questa cosa Secondo me Questo è un po' il tema Esatto Oppure perché Contate che Secondo me Tipo almeno il 50% Poi Primo anno cambia Esatto C'è C'è questa roba qua Sì Non lo so Secondo me Il fatto anche È che Cioè ora più che mai Ci sono così tanti corsi dopo Cioè la triennale È niente Capito Cioè poi hai Il master Puoi cambiare 700 volte Puoi E poi anche Soprattutto Cioè secondo me Il sistema Istituzionale Italiano Scolastico È un pochino Fatto di merda Perché ti Prepara poco No A Quella roba lì Del Ok io ho così tanti corsi E Soprattutto raga Parliamo Cioè 50 anni fa C'era giuri C'era C'era lettere C'era filosofia Sì Ora hai il corso Io allora Scusa Amy Scusa Mede Non è zero per fare Ma io guardavo L'altro giorno Così per curiosità I corsi della Sam Martin A London No 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 raga Voi non avete Una triennale Dico raga Ma curiosità Su Vi giuro raga Solo Lo studio Lo studio Del Vietnam Di art Cioè una triennale Sul Vietnam No ma è assurdo Cioè Ce n'è veramente Di ogni genere Di ogni genere Tipo gender Qualification In the life industry And that Amy Esatto Amy Tipo quella roba lì E quindi Secondo me Il punto è È così difficile Che già A vent'anni No Diciannove Tu sei Diciannove Sì Esposto a Così tante scelte E ovviamente Nessuno raga Cioè O ci sono quelli I soliti che noi citiamo Stronzi Che vi stra Che sono nati Dicendo sì Io voglio fare l'avvocato Però Secondo me Concordo Che Soprattutto In quinta Hai questa pressione Gigante Su Una cosa Che assolutamente Pensi che poi Sia irreversibile Ma io Quanta gente Conosco raga Che ha 35 anni Ha cambiato Completamente Il suo piano di vita Che si è detta Cito per esempio Rock and Fioc Che lei lo dice sempre Che Ci sono Spesso Lei Non so Tipo 20 anni Come noi Che Che arrivano 700 cose Tipo Oddio Io mi sento Tersa Perché ho 24 anni Abbiamo 24 anni Cioè C'è il mondo Di voler dire Io comunque Sto facendo una scelta Non ho voglia Di farla Completamente a caso Comunque Sono tanti soldi Molto spesso E comunque È tempo Cioè Sono tre anni Da tua vita E non ho voglia Di fare una roba Di cui non me ne frega niente Quindi La scelta È stra-legittima E è stra-giusto Però Deve essere una cosa Per cui tanto Non lo saprei mai Prima Di entrarci Quindi Se hai delle Opzioni Valutale bene In base a quello Che tu ti vedi In questo momento Per il tuo futuro E provaci C'è un po' Quella roba Secondo me Secondo me C'è sempre C'è sempre La solita frase Dell'equilibrio Però da una parte C'è tantissima pretesa Di sapere Cosa dobbiamo fare Per forza Cioè Io a 18 anni Deve essere una persona Rissoluta Che sa cosa vuole fare Nel suo futuro E c'è questa pressione Dall'altra parte È giusto anche Che uno pensi In modo equilibrato E razionale A dire Cosa cacchio Voglio fare In università In modo tale Che ci sia un percorso Sento assato Detto ciò È vero Anche che abbiamo Tantissimo tempo E che tuttora Noi tre Che facciamo In università Io mi lavoro Tra un anno Nina pure Tu tra due Un anno e mezzo Un anno e mezzo Cioè io parlo per me E però anche per voi Io non so cosa voglio fare Cioè sarò sincera E comunque sto facendo Cioè mi sto per laureare Quindi io Io sto facendo una cosa Che mi appassiona E di questo sono Estremamente contenta Devo iniziare a pensare Cosa fare del mio futuro Però non pensiamo Che fare una triennale Decidere un percorso universitario Faccia in modo che Tu debba sapere Cosa vuoi fare Cioè È fatto in modo Che anche mentre Tu lo studi Saprai cosa fare Scusa Se non ricordo male Tu l'hai tipo scelto A caso All'ultimo Io l'ho scelto a caso Perché non c'era la selezione Era una delle poche università Che potevano interessarmi Che dove non c'era L'iscrizione Perché in filosofia Almeno in statale Non è necessario Un test E io avevo fallito Tutti gli altri Fallito perché Volevo fallirli Cioè adesso Me ne rendo conto Cioè non avevo studiato niente Avevo provato Comunicazione da qualche parte Forse anche qualcosa In bicocca Sì avevo provato qualcosa In bicocca Ah sì il corso Quello bello della bicocca Delle robe stanzi C'era un comunicazione Qualcosa Per poi decidere Di fare filosofia Semplicemente perché In filosofia Almeno in statale Appunto ti puoi scrivere così E io non ero Cioè Non ero assolutamente convinta E neanche ora Però sono contentissima Sono veramente contenta Io mi sono resa conto Che ora come ora Molto contenta Di quello che sto facendo Ma se tornasse niente Non lo rifarei Davvero? Cioè magari Farei design sicuramente Al poli anche Non rifarei forse moda Ok ci sta Quindi comunque Però so benissimo Che anche È anche una scelta Che devi fare Se non sei sicuro In maniera furba Nel senso che Io non sarei mai andata A fare moda Se non ero così sicura Alla Marangoni Che è solo quello Comunque il fatto È vero fatto Paralmente al poli Il poli è 700 altre robe In più Che non è Laura in disegno industriale Quindi È tutto E allora lì ha senso Perché dice Ok non ho budito tre anni Proprio Io avevo fatto un corso Perché Come Alice Avevo fatto l'anno sabbatico E mi ricordo Che per decidere L'università Avevo fatto questo corso Con due professioniste Due coach Che ti instì Ma va Sì Erano tre incontri Di cui forse l'ultimo Addirittura Con una figura Genitoriale Non mi ricordo molto bene Però molto interessante Dove loro Sostanzialmente Ti chiedevano di te Dei tuoi interessi Quindi tu parlai Abbastanza a vota libera Io mi ricordo L'ho presa tipo Come uno psicologo Cioè giuro Ho parlato tipo E poi ti facevano Un piano Che è molto utile Secondo me Perché è difficile Anche aprire il computer Di cosa cerco Cioè io mi ricordo Che io aprivo il computer E dicevo Io non so cosa cercare Cioè io non ho Un libro Dell'istruzione Per cercare Un'università adatta a me Mentre loro Che avevano studiato Questa cosa qua Nell'ambito italiano Forse non straniero Cioè non estero Ti davano proprio Una visuale completa Di tutte le università Facoltà In giro per l'Italia Che potevano essere adatta a te Era veramente una figata Allora scusa Domanda ora Cosa rifaresti Cioè Se ci potessi riscrivere Tipo io Prodotto io Ah ok Comunque sempre design O design O anche invece Avrebbe tanto Quello che dico sempre Giurisprudenza O architettura Architettura Molto Architettura è difficilissima Però anche a me Ha sempre ispirato Però ecco Quello è una facoltà Abbastanza settoriale Esatto La cosa che poi Io ho sempre il problema Del Ho sempre avuto il problema Del Sì fighissimo Il lavoro Che mi casa Cioè penso al lavoro In futuro Bello ma Il prima Mi spaventa un sacco C'è lo studio Che devi fare Per arrivare a quella cosa lì Sì È che ci sono tantissime facoltà Così tanto Toste Che secondo me È necessaria la passione Però è difficile farla ragazzi Ma no Ma pure giuri Medicina se non c'è Quella roba lì Giurisprudenza se non c'è Quella roba lì Giurisprudenza già meno Perché è un po' più ampia In realtà Però cioè Sono cinque anni La vostra vita Raga di più anche Cioè è tosto Di più Quindi quel tipo di facoltà Va fatto in maniera Però provate Provate Assolutamente Fate un anno e provate Mentre scusa Volevo dirti Che tu fai Beh ma sai che Secondo me in realtà Vita liceo unica Cambia poco Inizia Per me è stato uno shock No io ho detto Che cambia un botto No no Io ho detto Che cambia un botto Che cambia un rivoluzionario Ho detto Ma tanto è registrato Quindi si è No no Ho detto che cambia tutto A me ha detto Che cambia un botto Per Per capire invece Era un po' più sfigata Al liceo Non era quello Sto scherzando Però io parlo Sempre con Nina Però Che Assurdo No assurdo Vabbè però dai Che noi c'è Un gruppo classe Se noi sul siero raga Una volta facciamo Una puntata Solo sui cinque anni Della quinta C Del liceo classico Alessandro Manzoni Perché sono Pazzeschi Vabbè Il punto era Per me la cosa più scioccante È stato il fatto proprio Del Tu vai Cinque giorni su sette Sei giorni su sette Perché noi Quando ci andava Andavamo pure il sabato Quando ci andava E quello per me È lo shock Cioè che tu sei impegnato Così tanto Ma io non so neanche Nina Come faccia con la frequenza Tu anche con la frequenza Obbligatoria Io non so Ma io godi Invece che c'è la frequenza Obbligatoria Perché sennò io stare in casa È quello che faccio io Deprimerti No 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 Mi deprimo Perché per me A me agevola tanto Io sono una che sta molto bene Anche Studi le cose per me Non amo l'ambiente universitario Ma sono Tu cambio qua Ah per me sono una figata Ah vedi No io Atomica No secondo me non è Oltre a livello di routine Che ok è cambiato A parte che per me no Perché in realtà Io vado comunque noi tutti i giorni Tutto il giorno No 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 Ma io anche quella Esatto Quindi quello meno Proprio è una questione di percezione della vita Cioè nel senso Quando sei al liceo Io almeno Fino alla quinta liceo Giuro la mia vita Era miseria la mattina Gli unici problemi che avevo No adesso non voglio minimizzare Però al di là di cose personali Però dico in generale Nella mia vita Mi sentivo molto Soprattutto Prima del covid Magari fino alla terza Quarta liceo Dopo della quinta Già stavo crescendo E si iniziavano a vedere Un po' le prime problematiche Però io ho vissuto il liceo Molto Cioè Serena Andavo a scuola Tornavo a casa Pisolo di tre ore Studiamo Se dovevo studiare Uscivo Faccio il mio sport Tornavo a casa Non c'era neanche tanta roba Che era ovvio Uscire magari la sera Ai primi anni Quindi stavo a casa tranquilla Andavo a dormire Cioè Così Le pene d'amore Era l'unica cosa Che faceva un po' soffrire Però era molto divertente Una vita di sogno L'ho vissuta molto bene Momento covid Parentesi Ad aprire e chiudere Perché non è stato Assolutamente un bel momento Quinto anno E dici Oh da Dio Mi ricordo E mi ricordo Che arrivare all'Uni Comunque con un sacco Di responsabilità in più Un sacco di cose in più Che devi fare Magari iniziare a guadagnare I propri soldi Quindi comunque Per sentire che devi lavorare Fare amicizia Fare cose Cresci Sei comunque a vent'anni Del maggior cambiamento Cambiamento Sbalzi di umore Roba e così Quindi comunque È stato più faticoso In generale L'università Più cose a pensare Più Io invece ho adorato Cioè sarò sincera Io non trannevo mai indietro E mi divertivo Da morire a liceo Però Io a me Gaza avere anche Delle responsabilità Cioè Ecco È anche molto La sensazione Tipo indipendenza Che mi gaza molto Mi sento molto più Indipendente Dalla mia vita Che ci sta Che possa mettere ansia Però al tempo stesso Ma io No raga Mai 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 Indietro Cioè Sono mega contenta E poi voi comunque Siete tutte e due Che vivete Con i vostri Ancora Secondo me Molti poi All'uni Ovviamente Per chi non so Fuori sede Eccetera Lì Lì c'è il cambio Sì Vivere da solo Raga Cioè Io vi giuro Quest'anno È il mio Secondo anno In cui vivo Sola Terzo Perché in realtà Pure Sydney Quello per me È stata La figata Cioè Proprio il Ho una mia casa Mangio quando voglio Posso fare quello che voglio Ovviamente Poi C'è la cosa Oddio C'ho le bollette Devo pulire casa Perché non si pulisce sola Non è Cioè Spoiler Quello per me Perché spoiler No Però Secondo me La cosa che Sono curiosa Perché noi due In realtà Secondo me A me di Una uni Come quella tua In cui siete In 5 mila Tu sei solo Un numero Cioè Io con Bellissimo Scuola Holden Shout out Io ho un bellissimo Rapporto con Tutti i miei prof Cioè Che loro mi Conoscono Sanno il mio nome A me mette Molta meno ansia La mia dinamica Io invece sarei Persa Ti giuro Sono sicura Che andrei Mai in uni Non farei niente La mattina Svegliarmi Dire Che oggi Cosa devo fare Se vuoi Poi andare Sì Però Capito Ragazzi Se volete Potete frequentare No Però magari Non è tutto il giorno Magari ai due ore Un giorno dalle otto Alle dieci No Non ci sono degli orari Assurdi Ma in realtà Sì Cioè Dipende molto Dato come tu ti organizzi È ovvio È ovvio È ovvio che poi Non hai qualcuno Che ti dice Sei obbligato a venire Se no Sei fregato Quindi È ovvio che Poi Non si va Esatto Però in realtà Non è vero Nel senso che la statale È estremamente frequentata Io sono quasi un'eccezione Veramente Che conferma la regola È vero Anna Allora Sempre No ma ragazzi Anche perché ci sono dei corsi Oggettivamente Soprattutto per chi fa filosofia Che di base Ha una passione Un po' intrinseca Per questi argomenti Quindi nel momento Uno trova un corso Che gli piace Ma come può essere Scrittura e design Quando c'è qualcosa Che realmente ti stimola Ci sono i ragazzi Che le aule Ragazzi sono piene così E devi prenotarti Oppure sono fuori A prendere gli appunti Perché vogliono seguire il corso E quindi parlavo anche Di come è rivoluzionario Se tu hai un professore Molto bravo Che ti spiega le cose In maniera molto brava Sono io che sono pigra Non lo faccio E sono un po' anche Arrogante nel dire Me lo studio da sola Sarò sincera Se no Cioè lo fai Di brutto Ok Le aule sono piene Andiamo un po' avanti Cioè abbiamo fatto Un bello spiegone Poi Allora Molte domande Sulla questione Del gruppo di amiche Quindi Vai secondo slot Come gestire Il singolo rapporto All'interno di un Megagruppone di amiche Poi Aspetta Come fate a gestire Un gruppo così grande Di amiche Dai Non lo gestiamo Ci siamo Sono già due Cioè domande molto belle Allora Per chi non ci conoscesse Facciamo un po' Una Cioè piccola cosa Noi siamo molto fortunate Perché abbiamo questo gruppone Di 12 12 Amiche Vere Giuro Giuro Cioè che Tutti secondo me Pensano che noi Tipo vabbè Un po' Cioè mentiamo Che in realtà Noi siamo 12 In chat Stretta Cioè che ci Scriviamo 700 Cose Al Non so A giorno Per me Il mio Primo punto Forse un pochino Triste Però per Cioè comunque Io pure Che vivo via A me raga Il fatto che Quando Cioè che noi ci Scriviamo tanto Ovviamente Mi stralega Poi Cioè mi Mi stralega Solamente Per il fatto Del Che io pure Se per Due settimane Magari Non ti vedo Non c'è Quella roba Che poi Secondo me Un pochino Diventa pesante Del Ok Ti rivedo Una volta Ogni Due settimane E ho da raccontarti Tutte le cose Che mi sono successe Quello per me Non funziona Nel senso che Vabbè Però è capitato Nel senso che Cioè io ho un sacco di Cioè molte del gruppo Non le sento sempre E quando le vedo Poi faccio spiegone Anche perché Non è che mi metto a scrivere Mi sono spiegata male Non era quello Niente Mi sono spiegata male In generale il gruppone nostro È nato In maniera molto casuale Molto fortuna Ti direi Perché comunque Ci siamo trovate Non siamo tutti amiche Allo stesso modo Cioè Ci sono ovviamente No vabbè Non è in maniera brutta Negativa Cioè nel senso che Siamo tutte estremiche Però C'è un'unione di gruppo Di gruppi Che Esistevano già E ci sono un po' Di rapporti interni Molto stretti Chi più chi altri Però Tutte molto legate Cioè Cioè La dinamica di gruppo Scusami Stai finendo E il fatto che Comunque gestire L'amicizia singole Cioè Il rapporto singolo È una cosa che Secondo me Può avvenire Solo nel momento In cui c'è Un bene sincero Grande maturità Da parte di tutti E Un po' anche Di Di sicurezza Nel bene Le persone Quello che provi Perché comunque Uno sa che Non deve paragonarsi I rapporti degli altri Sa che il rapporto Che io con lei Non c'entra niente Con quello che Ho con un'altra persona Che non sono le cose Che si paragonano Perché so che Io magari appunto Come abbiamo sempre detto Da quella persona Ricerco una cosa Ma non vuol dire che In altro Faccia schifo Però so che ci sono Altre Aspetti Di un'altra amica Che so che Qualcuno Mi può dare meglio Qualcuno che mi capisce Meglio su un punto Che mi capisce meglio Ne un altro Quindi nel momento In cui Tutte si capiscono Per questo punto qua Secondo me Si riesce a convivere Molto In un gruppo Secondo me Noi abbiamo Scusami Secondo me Noi abbiamo Molto imparato Ad essere amiche Cioè C'è stato Un sacco Di Veramente Reale percorso Di confronto Nella dinamica Dei rapporti Tra amicizie Per cui abbiamo avuto La fortuna Sicuramente Di essere delle persone Estremamente Sensibili Ma anche pronte Tanto al dialogo Perché questo Secondo me è una cosa Che ci accomuna a tutte Parliamo veramente Troppo Che è bellissimo Sedute psicologiche Fuori di testa Però secondo me Questo ci ha aiutato A comprendere Realmente delle dinamiche Molto sottili Che si possono creare In un gruppo Di tante persone Soprattutto magari In un gruppo di ragazze Dove la parte Di insicurezza Dove la parte Di dinamiche interne E tutto È comunque un tema E non è che siamo Nate e imparate Il gruppo è arrivato Ed è funzionato subito Cioè ci sono stati anni In cui ci detestavamo Una tra l'altra Cioè c'erano due gruppi Tipo separate Con mezzi scazzi Cavolo è vero È vero Ci slovo di amore Poi si sono cambiate Tutte tantissimo Si è creata Molta più consapevolezza Secondo me Di come gestire Il rapporto e amicizia Di ciò che ognuna di noi Ha bisogno In una dinamica di gruppo E in una dinamica individuale Io ho dei rapporti Intimi e individuali A uno a uno Con tantissime mie amiche Come non ce li ho con altre Ciò non le slega Dal mia concezione Nel loro di amicizia Semplicemente Sono rapporti Che poi magari Tra due mesi Sono molto legata A un'altra persona Inizia a chiacchierare Da morire con una di loro Cioè non mi è mai capitato Di avere quella cosa Tipo con lei Non esco mai Con alcune Mi trovo di più Con altre Mi trovo di meno Ma non è questione Di trovarsi Nel senso Mi stai più simpatica È proprio questione Di necessità Nel momento Nel tuo periodo Della tua vita Che secondo me Noi abbiamo gestito Da Dio C'è un botto Questa roba qua Che tra di noi Molto spesso Proprio ci si avvicina Per un periodo E poi ci si allontana Però tutto Oddio Così sembra la cosa Esatto raga Cioè non è vero Ci sono anche tanti Assolutamente Però dico In Una maniera molto sana Secondo me Dal mio punto di vista Almeno poi Se voi invece Non la Pensate così Di Ci sono volte Proprio che mi Sorprendo Di quanto Una persona Che non so Magari sento meno Come Marghe Per esempio Facciamo nomi In Una certa situa Una sua chiacchiera Con lei Di 40 minuti Proprio mi Stracare Non mi da un punto di vista E poi tra quello Non c'è Ripeto Sempre per me Per non ovviamente Tutti i rapporti C'è anche Quella roba lì Che poi magari Non Pretendo però Che mi chiami Il giorno dopo Comunque Perché Siccome ieri Siamo state molti insieme Allora per una settimana Mi devi seguire E' una cosa Proprio bella Secondo me Che io vivo Allo stesso tempo Posso fare Un pochino Pignoletta Nazi Pignoletta Vabbè Sì Possiamo dirle Bisogna dire Anche un po' Che per me Soprattutto Se poi Si parla Cosa uno Tu uno Face to face Impegno No E' un lavoro E' un lavoro E' una relazione Esatto Ora possiamo fare Quelli che è Però bisogna impegnarsi Poi ci sono un botto Di dinamiche interne Il fatto di essere in tante E' un problema E' anche tanto Molte volte un po' C'è quella cosa Per cui si creano Un po' Di sottogruppi a volte Quindi magari c'è un litigio Non che si crea le fazioni Però capito C'è una cosa C'è un litigio Con qualcuno Una scazzata E allora arriva quella lì Che dice C'è quella dell'amica lì Oppure magari sei in tante Quindi non ti viene in mente Di chiamare tutte Quando ci si vede Perché magari Un'altra al telefono E chiama una a caso E l'altra non viene invitata E quindi ne viene la paranoia Perché si sente Che sta scusa Cosa che ovviamente Non è così Però magari Non le viene l'istinto Un po' da Così Insicurezza Inferiorità Cosa che non è vera Però uno la percepisce In un modo Quelle cose lì Però Devo dire Che il fatto Che parliamo molto E abbiamo fatto tante cazzate Come Nei rapporti Anche banalmente Il Ma mi ha detto Non so Benni Che avete litigato E dici Cazzo Perché gliel'hai detto Queste cose qua Quindi anche imparare A dire Ok sapete cosa Avete scazzato questa roba Mi faccio i cavoli miei Non me ne frega più niente C'è quello importantissimo Ragazzi Imparare a farsi i cazzi suoi Esatto Da tante litigate Che sono state Che sono successe Come abbiamo imparato Un botto poi A gestire le cose E capire Gli schrezzi Gli scazzi Comunque siamo donne Abbiamo vent'anni Siamo in gruppo ai dodici Però è un gruppo molto unito Di cui sicuramente bisogna anche Ma vi chiedo Voi vi sentite Cioè So che sì Ma Perché pure Ovviamente io Certe volte Come gestite Questi momenti qua Un po' Non so magari Di anche Cioè che sei geloso Male Di qualche cosa Male Sì Io pure male E in più Vi dirò Mi è difficile dirlo Cioè il Mi sono sentita ferita Per questa roba qua Per come sono fatta io Che per chi mi conosce Sa Mi strapesa Quindi molto spesso Poi sto lì Vedo che ci ripenso Che poi quando Risuccede Dico Ah però Potevo dire la scorsa volta Così magari questa volta Stavano più attente Però Sì sì ecco Cioè Era questa qua Un po' La mia Io faccio un po' Fatica Ma sia perché Molte volte Poi non ci voglio Ogni volta Di rompere le palle Su Ogni volta Però quando succede Di mettere il dito Nella piazza Non so come ogni volta Che ogni piccola cosa Mi piglio male Che ci sta Che magari Anche se non succede spesso Però succede così E poi Che se mi piglio male Comunque c'è una questione Di rancore Di Aggressiopas Orgoglio Che non mi permette Di fare questa cosa Purtroppo E la cosa peggiore Conoscessi Ma io sapete Quale ragazze Non è tanto Il Ah mi conosce Mi capisce No no E mi conosce Mi capisce Mi conosce Mi capisce In tutti i casi Tu non puoi nascondere Una merda di niente Perché non nascondi niente Sei incazzata Perché sei incazzata Niente È la quarta volta Che me lo chiedi Viola Ti ho detto Che non ho niente E quindi Tutte queste cose qua In generale È pesante Quello Quello è pesante Perché Non è pesante Però è lo sbatti In modo ovviamente Carino E tenero Del dire Ci si conosce molto bene E poi hai comunque 24 occhi su di te Compresi i tuoi Che ti guardano E ovviamente Sono pronta Ad aiutarti Però a volte Dici Cioè forse Fai la risposta di merda E tutte sanno Che quella è la risposta La Nina E tutte che si guardano Una con l'altra Dicono Ah è arrivata la cosa C'è Comunque insomma È un lavoraccio Però grazie a Dio Io andiamo tutti In paesi diversi In città diverse Quindi non capita spesso In realtà Che siamo tutte insieme E quando capita È sempre bello Se fossimo sempre Tutte insieme Sarebbe un po' Meno male Che non siamo tutte Qua a Milano Meno male Sono partite Un incubo Un incubo Un incubo Poi vi stramo Però Però ecco Secondo me Posso dirvi Una roba molto brutta Di questa Diciamo Gelosia In amicizia È che è un pochino Meno giusto Cioè Con il tuo tipo Sei più giustificata Nel zio Guarda chi mi ero Con la tua dolce metà Secondo me Per me la gelosia È più Più fattibile Con le amicizie Sei un pochino Meno giustificata Sì E poi sei più gelosa Delle amicizie Tra l'altro Sono Sono un pochino Piaggiosa È un pochino Meno Per me è pure giusto E poi È ovviamente Meno normalizzato Ma lo sai Che sono un po' Gelosa di te Che sei stramica Con lei È strano un po' È strano Ma anche perché Ci sta Nel senso che Noi si pensa Che la relazione Deba essere Una Con Un Un Con una persona E quindi Il momento in cui Con una persona E ci sta Che è quasi più Accettato il fatto Che sei gelosa Invece L'amicizia Non è che ne è una Ma perché noi Siamo fidanzate Mi giuro Noi siamo fidanzate È una roba Che io non so Come fare Io ho Dieci fidanzate Ok Dieci È assurdo Cioè Infatti sono Stanca Infatti i uomini Non se ne vedono Ma perché non c'è Dio per gli uomini Ma non c'è Dio per i uomini È quello È quello È veramente quello La roba che ha troppe amiche Mi bastano loro E quindi Vabbè Andiamo avanti No sesso No Non ci fa schifo Esatto Alla fine A me basta Capito Quello che mi danno Nei mie amiche Allora Diciamo per l'ultima volta Che università facciamo Perché ce lo chiedono Ogni volta È vero Design nella moda Politecnico Filosofia statale Di Milano Scrittura Creativa Scrittura Alla Holden Sì Ok Come è nato il podcast Anche questo Vogliamo dirlo Un'ultima volta Come abbiamo fatto Come si comincia Per condurre un podcast Oppure anche Allora come si Sì sì No ma che qua Poi ci chiedete molto spesso Come faccio io Per iniziare Allora posso dirvi Una roba molto Noi abbiamo avuto Un culo assurdo Perché voi pensate Magari Spero che voi Un pochino Lo pensiate Cioè questo qua L'abbiamo fatto noi Abbiamo costruito noi No raga era così E noi ci siamo sedute Ci siamo simpatiche E voi ci ascoltate No poi abbiamo portato Un apporto gigantesco Ovviamente No ho capito Al mondo estradio Però diciamo che Noi non stavamo cercando Di fare un podcast Come iniziare Io non ne ho idea Perché noi non abbiamo iniziato Sì Su cosa comprare Cos'è Cioè su questo purtroppo Mi spiace Abbiamo capito che ci vuole Veramente tanto lavoro Sembra che sia solo parlare Ma c'è la questione di Avere un posto innanzitutto Le camere Gli attrezzi Un grande investimento Avere qualcuno Che ti monta le puntate Avere i contenuti Vabbè Quello puoi farlo anche tu E puoi anche pigliare Non so magari i microfoni Io No però grazie Andre Grazie Ah no vabbè Ma no ecco Il punto è Questa roba qua Che voi vedete Che noi siamo lì Che siamo pure lì E che siamo pure lì Non è così facile Capito Non è che già Vabbè compro tre cose No Sì Anche avere un posto Un'identità C'è comunque La questione anche Di fare una cosa fatta bene Che possa andare Funzionare Perché hai Un'estetica che funziona E la figata di qua Secondo me è che Qualunque Cioè Comunque noi siamo Sette programmi Otto La figata è che tu Comunque sai Vedi che è questo Sì Quindi quello Allora su come Iniziare Secondo me La cosa E detto da me Fa molto ridere Viola Non mi guardare così Io non ti guarderò C'è proprio La minima Organizzazione Sì Organizzazione Almeno Mensile Soprattutto per I primi mesi Di Quando far uscire Ovviamente Se proprio posso dire La cosa Migliore È se Soprattutto All'inizio Lo fai Una volta Ogni settimana Perché è Più facile Poi che Ti fai conoscere Secondo me No? Sì Sì No Invece Non l'originale Per forza Ma Che tu riesca a farlo In modo giusto Perché Non è che abbiamo I primi originali Nel senso che noi parliamo Di cose Che non è che Ne parliamo solo noi Ovviamente Non siamo inventrici Niente di Assurdo Però Sicuramente Il fatto di farti conoscere In un certo modo Il fatto di avere La tua identità Appunto Sì Comunque è questione Di identità Personalità Esatto Comunque la finestra Già un po' L'identità C'è là E quindi Quello che non facciamo noi Perfetto ragazzi Siamo ottimi Essere puntuali Comunque tutto è nato Perché siamo state reclutate Da Enrico Sorbini In quinta liceo A un collettivo Al Manzoni Durante un'occupazione Quindi andate collettivi E buttatevi nelle cose Nelle opportunità Detto ciò Sto vedendo anche un sacco Di podcast Homemade Anch'io tantissimi Che non Non so se vadano bene Nel senso Però li ho visti Cioè Quindi La roba è che comunque La struttura podcast Se la vuoi fare semplice Puoi iniziare a farla semplice Secondo me Quindi La parte iniziale Potrebbe essere Più che tecnica Creativa E trovare uno spunto E un'identità intelligente E poi pubblicizzarla molto E essere bravi A livello di comunicazione Dopodiché Secondo me Ovviamente Soldi e investimenti Se ce li avete prima Meglio Se arrivano dopo Ancora meglio Ecco Non è una cosa Che vi porta denaro Cioè sappi Ah ecco Sfatiamo questo mito Cioè non fatelo per lavoro No raga Mi spiace Cioè nel senso Che noi non stiamo Sponsorizzando niente Nessuno ci chiede niente E lo facciamo assolutamente A scopo Perché ci stradivertiamo Di brutto A fine gratuito Creativo E creativo Allora Qua ci sono sempre Un po' di cose Vabbè ma mille sul liceo Raga ma chi l'avrebbe mai detto Qual è il vostro più grande Punto debole Scusa che l'ho vista adesso Io non lo so Io sì Io lo so Ma punto debole Punto debole Ora ognuno dice Se vuoi te lo dico Io Amo come oggi Viola Pranzo Cioè proprio Stavamo parlando Di altro Stavamo spillando Un grande t Stavamo spillando No raga Mi spiace E no ora lo diciamo Scherzo Viola mi fa No ma lo sai che tu Quando mangi hai un tic E si è messa a farmi Quest'analisi Sul mio modo Di mangiare le cose Proprio da Fisicamente Come le mangio Fisicamente Io sono rimasta scioccata Ma scusa Però uno Ti cazzo Ha trovato concordia No è stravero Le altre mi hanno detto di sì Quindi vabbè Mi piace osservarti Osservare le tue stranezze Punto debole Cioè se non voglio fare la tragica O quella troppo Però sicura Cioè ad oggi La cosa che penso Punto debole Cioè che mi limita Eh perché quello È il punto debole In alcune cose nella vita Per me è l'ansia Totalmente Ah beh Ah beh è vero Cioè se devo parlare L'unica cosa per cui penso Devo fare delle cose L'unico motivo per cui potrei sentirmi un po' È quello Cioè Sì che mi limita Punto debole Sono le cose che Che mi limitano realmente È quello Ti rendono impotente Sì Beh è vero Anche un botto l'ansia E un po' la Boh Ma non lo so Io intendo faccio gli occhi dolci Al tuo fidanzato Posso dire una bruttissima scena Ero lì che dicevo Sei tu il mio punto debole Lollo Sei proprio Certo che il mio punto debole Mi fidanzato Beh è un botto Tu amo il tuo punto debole È Lollo Scusa No no Il mio punto debole È l'ansia È Lollo È Lollo è il mio punto di forza Oh that's so cute Actually Yeah Yeah That's really cute Il mio punto debole Sì Ansia Insicurezza Un po' Famiglia forse Allora A me non mi viene in mente Ma non perché Io non ce l'abbia Ne ho mille Non mi viene in mente Vai Viola Se vuoi puoi dire No Non lo so qual è Perché è una cosa Che dovrebbe impedirti Di fare delle cose Comunque anche Punti che le persone Non dovrebbero toccare con te Perché sei un po' più fragile A riguardo Ah no Vabbè Ne ho mille Esatto Puoi interpretarlo Cioè capito Quindi ci sono delle cose Tipo i miei punti deboli Sono ad esempio Tutta la roba estetica È molto il mio punto debole Appunto L'ansia È un punto debole fisico Concreto Che mi impedisce di fare le cose La mia famiglia È un punto debole Cioè ci sono delle cose Che non tocco Ah la mia famiglia È il punto debole mio Ci sta capito Sono quelle cose No no Il punto debole Può essere interpretato anche così Caccio ma sei tu Tocchi la mia famiglia Eh sì Cioè un punto Che ti rende più fragile Ah Anche Ah quindi anche Che tu non ti devi azzardare a dire Io non intendevo quello Anche io non intendevo quello Secondo me Qualcuno Che non conosci bene Che ti fa un commento Magari su Tuo padre Tipo Ti Cioè non so Pigli male No Tipo Eh O anche se Beh Cioè Tu sento punto debole No ci sono delle cose Punto debole può essere interpretato anche come delle cose che le persone attorno a te Sanno che non devono toccare perché ti limitano e ti rendono debole Quindi ci sono delle cose nella mia vita che mi rendono debole che può essere l'ansia Che concretamente mi impedisce di fare giusto le cose O l'insicurezza Oppure punti deboli Tipo appunto La mia famiglia e l'estetica Che sono punti che gradirei non venissero toccati Io ce l'ho ma Non le voglio dire Non dirle infatti Perché poi sanno come Attaccarmi Perché tu non devi Non mi avrete mai Non mi avrete mai Perché io sempre Guarda la mia famiglia La mia non è il mio punto debole Tu punto debole è Ma io non ne ho Allora da questo punto di vista Eh ma perché ti conosci molto bene Ah è il tuo punto debole tipo Vabbè no però Entro in un discorso troppo deep Let's go Allora No dai dopo dimmelo però Sì lo dico ma ti viene l'altra Allora l'altro giorno Posso cambiare Arco Sempre la solita roba Posso cambiare Proprio domanda random Vai Allora Praticamente l'altro giorno Parlavo con una mia amica di Uni E le ho chiesto Chi è secondo te L'uomo più bello del mondo Chi è secondo voi L'uomo più bello del mondo Io posso dire Il mio papo da basic girl Spiegata Sì Riscargio Scamarcio In tre metri Spiegato Absoluto il notto Ma no Ma fighissimo invece Io in questo momento Vi dico raga Ma che ho un serio problema Di innamoramento Che sono un po' sbatti Tra l'altro è gay purtroppo Raga Non so Non so come si chiama Come si chiama Quello di Prison Break Michael Scofield No l'amo È il più figo Lui è figissimo Ma poi il personaggio anche È il più figo del mondo Io non l'ho mai visto No è proprio il personaggio bello Lui è gay Sì Il personaggio La realtà No la realtà Ok Infatti se ne sbatti Perché comunque lo vedo Mi penso che Allora io Tu vai dimmi Tu Lo so Però io ho avuto un problema Cioè l'unico mio Reale problema Con una celebrity Che ho avuto Nel senso che lo sognavo Di notte E la raga Però ci sono stata male Ci sono stata No Io non apro Quest'argomento E sembrerò Perché sembra Capito Che lo amano tutti E quindi Io raga Ho avuto Ora no Ho avuto un serio problema Con Timothee Chalamet No ma Serio vuol dire Ma perché ti ho scritto Sì certo Serio vuol dire Che lui non era famoso Lui è diventato molto famoso Con Come By Your Name Molto conosciuto Grazie a me Come By Your Name E io mi ricordo Che andai a vedere Tre manifeste A Ebbing Missouri Che era candidato Secondo me Con Come By Your Name All'Oscar Comunque ero andata In questo cinema E Come By Your Name Non era ancora uscito Ma al cinema Avevano fatto vedere Il trailer del film Prima che io Vedessi il film Per quello E quindi c'era il trailer Di Come By Your Name Io non avevo idea Di chi fosse lui Ovviamente si vede lui Nel trailer E io dico Tu sei Mi dava proprio Io avevo una roba qua Che lo guardavo Diceva Lolix Come ci sentiamo Di là Io ti amo E quindi disse Mamma Mamma Dobbiamo capire Come si chiama questo film Io non mi ricordo Come si chiama il trailer Dobbiamo andarla a vedere Dobbiamo andarla a vedere Poi l'avevo vista Perché era uscito Cacchio ovunque Quindi mi ero dimenticata Però poi mi hanno spiattellato Con By Your Name ovunque E da lì raga Non so Io Cioè Non più Io sognavo Delle cose Raga Tipo Ti faccio il sesso No Mai Io sognavo Tipo delle cose Che lui stava malissimo Che lui stava malissimo Io lo curavo Gli dicevo Croce Rossina Tu sei da Croce Rossina No No Però mi ricordo Che lo curavo Lui stava male Guadagnino veniva da me E mi diceva Ma tranquilla Perché è un po' problematico Comunque sai che pure a me Lui Non mi ha mai fatto Allora In Piccole Donne Sì Porca miseria In Piccole Donne È una roba Non hai mai visto Piccole Donne Il personaggio suo Di Piccole Donne Che c'è la La cosa con lei Che non mi ricordo Come si chiama Bellissimo Amo la scena che fa I love you I love you Bellissimo Wow Comunque anche a me Cioè nel senso mi piace Ma non più Era semplicemente un affetto Proprio di Più amore Che considerazione di lui In quanto bello E comunque amo È la tua prima celebrity crush Tu sei una di solito Che non ti piace mai Nessuno di famoso A me è anche Matthew McConaughey Sì Chi? Matthew McConaughey Ah McConaughey No Ti fai rivivere Matthew McConaughey McConaughey Ah beh lui Beh Qual è il film In cui è un po' tutto nudo Che fa Che fa Che fa Tutto piccolo No no Non è Dieci giorni Per farti lasciare Quello Che c'è la scena Di lei Con il vestito giallo E lei è bella in culo Cazzo bellissima Allora Il trailer di quel film E lui come Basta che ci ascolta Poverino Che sente solo Poverino Allora Un'altra domanda Molto Ah questo è interessante Ah la prima domanda Che ci avete fatto Interessante No no Tutte interessanti eh Sento di aver bisogno Ogni tot di nuovi stimoli Il che è top E fin qua Perfetto Ma Mi porta anche a annoiarmi Delle persone che ho intorno Questa cosa non mi piace Ah mi si è fatto un selfie Mi si è fatto un selfie adesso Ha aperto la telecamera Ha scattato Ha fatto Ha scattato Perché volevo andarla Mi ha scritto Mi ha scritto mio amico di Torino E mi fa Ci sei per stasera E volevo dire Sola Milano Volevo dire No Sola Milano Vai Sola Scusa Vai Di virgolo coletto Allora Ho sempre bisogno Di nuovi stimoli Però Sono sempre Nello stesso Ambiente Come ricerco Però questa invece È una melissia Questa Gentile Come si chiama? No Non te lo dico Aspetta Vai Dai Attenzione Senti di aver bisogno Ogni tot di nuovi stimoli Il che è top Ma mi porta anche a annoiarmi Delle persone che ho intorno Questa cosa non mi piace Allora Io Ci ho pensato Quando l'ho letta oggi Questa domanda Quindi Avrò una risposta Che sembrerà Ah Hai pensata ora Invece no Preparata Lo dico Però io penso che Secondo me Ed è anche la chiave Per riuscire a avere Tante amicizie Che magari Collezioni Che porti avanti A tanto tempo Le stesse amicizie Così È il fatto che uno Ovviamente Deve ricercare Gli stimoli In quello che è intorno Ovviamente Perché si è stimolato Alle cose che è intorno Però Devi anche Tanto Cioè Sembra quasi a volte Che uno Si annoia Perché deve un po' Scappare da se stesso Quindi cercare altre cose Che un po' Magari lo distraggono Cioè Io mi rendo conto Che una volta Che ti concentri Anche molto su di te Sei stimolato Alle cose che hai intorno Però ti concentri Molto su di te Senza appoggiarti Troppo sempre A quello che hai intorno Alla fine riesci A rimanere anche Nel tuo ambiente Però venendo stimolato Alle cose che Più più lontane Più grandi Oppure meno No No Ne la concordo Perché no? Cosa pensi? No, noi siamo due contro una Pesante Cioè non che tu non devi aprirti altre cose Non dico quello Però dico solo che Anzi è giusto che uno lo faccia Però dico che non deve essere una cosa Per cui io vengo stimolata Solo so qualcosa di nuovo Ah ok No, no, no Quello concordo Che lo stimolo Può provenire anche da Tante altre cose Che non per forza Siano nell'ambiente Che tu stai frequentando In quell'esatto momento Voi vi sentite delle persone stimolate? Dai, le persone attorno a voi Io ricerco Io le persone Di cui mi circondo Sono solo persone che mi stimolano Assolutamente persone che mi Che Cioè Ma dipende cosa Andiamo con gli stimoli Gli stimoli Eh amo Che non so Mi proponi cose Che non so Di solito Io non faccio sola Che mi racconti Di un film Che Non so Hai visto? Tutte persone che intorno Fanno questo? No Allora Secondo me ci sono diversi tipi di stimoli Perché ha ragione Alice Nel senso Ci sono delle È vero che automaticamente Devi scegliere persone che Ti stimolano Cioè è una priorità Che non è per forza Ah no Perché tu non mi stimolano Vien da sé Cioè se è una persona Secondo me che ti piace È perché ti stimola Io parlo di persone nuove Che Detto ciò Insomma c'è quello stimolo lì Ma anche uno stimolo molto Ad esempio su Riflessioni proprio Anche proprio di dialogo Cioè Di persone che La vedono Banalmente Le persone che la vedono diversa da te Sono persone che ti stimolano Tantissimo Tantissimo Le maniche Che sono Ma esatto Cioè secondo me Gli stimoli Sono stimoli anche molto Fisici di qualsiasi tipo Cioè può essere una roba Una persona che Ti urla addosso Dici questa cosa Che hai detto È proprio una cazzata Mi stai stimolando A pensare qualcosa di diverso Certo Può essere anche una cosa concreta Come dire Andiamo a vedere un film Andiamo a fare questa esperienza Voglio viaggiare con te Voglio fare questa cosa Ah ma hai notato Persone che ti danno stimoli diversi Perché sono stimolate in modo diverso Secondo me è una cosa È da considerare Una carattere bello Che ti piace Una stimolante Che vorrei essere Con il suo carattere Esatto O che si veste bello Quindi chi dice Cerco sempre nuovi stimoli E che puoi trovarli anche Nell'intimità con le persone Che conosci da sempre Assolutamente È solo l'approccio Che tu hai È quello che intendevo dire io Cioè esatto Mi sono spiegata male Però quello che intendevo dire io È che Secondo me A volte Il dire mi annoia tutto Voglio sempre Cercare cose nuove Perché forse uno scappa Un po' da qualcosa Non so O non per forza scappa Però Non si concentra abbastanza Su quello che è intorno Le cose che ha attorno Cioè le vede nella loro banalità Quando spesso lo è Però al tempo stesso Ci sono delle cose Che in base alla tua attitudine A come tu vivi la cosa È lì che secondo me Entra lo stimolo Cioè se io sto facendo Questa puntata E la faccio Giusto perché devo farla Allora non sarò mai stimolata Se io sto facendo Questa puntata Con la concentrazione E con la voglia Di essere stimolata Da questa puntata Sarò stimolata Anche se questa puntata La faccio una volta a settimana Totale E poi anche il fatto Secondo me Tipo Se sono in un periodo Con cui con le persone Che ho intorno Quelle persone in particolare Non mi danno abbastanza In quel momento Io A me da un po' fastidio Quando le persone Poi scappano da tutto Cioè proprio Si allontanano del tutto Quindi perdono completamente i contatti E dico Mi hanno dato tutto E cambio completamente Quello è sbagliato Quello è sbagliato Perché capisco che Non ci si ammonte a consapevolezza Nel senso È giusto che il momento In cui alcune persone In quel momento della tua vita Non ti danno quella cosa lì Allora magari le vedo un po' meno E so che in altri ambienti Poi posso trovare altre cose Ma senza Ma lì rientra Se sei una persona matura Che poi ti parla Che ti spiega Allora Il mio punto è Primo punto che È fondamentale per noi Che noi raga Comunque Cioè Milano Ti riempie di stimoli Capito Io anche penso a Non so Una persona Che viene da Un paesino di Cinquemila persone Cioè Ovviamente Ovviamente Sono cose Io Quello che penso È che invece Però forse Per anche Come sono fatta io A me il cambiare E l'uscire Da ciò che è la mia Comfort zone Mi aiuta Tantissimo E Soprattutto Mi rendo conto Quanto Cose che Prima pensavo Fossero zero Mie Siccome Mi sono sforzata Con anche Molta fatica Esempio Super pratico Io Tutto L'anno scorso Torino Ero Zero Stimolata Ero super Giù Sempre Quando ero lì Facevo sempre le stesse cose Andavi in un Quando mi sono impegnata Quest'anno qua Mi sono sforzata A uscire A conoscere Gente nuova Che magari All'inizio Dico Vabbè ma che cazzo C'ho con sta qua Da parlare Quella roba lì Ora come ora Mi sta proprio E non è che Torino È cambiata Torino è uguale È il mio modo Capito Quello che dico Infatti secondo me È da lì È proprio Dall'attitudine E io Assurdo È Quella roba Che ci pensavo Due giorni fa Perché stavo parlando sempre con Sofio Beh di questa cosa qua Di quanto vorrei Poi è giustissimo Invece che sia successo così Di pigliarmi Sei mesi fa Schiaffo di Zia Dai sveglia Poi ci sa Perché secondo me Era mega giusto Che anche dopo Ovviamente dopo Sydney Quell'anno lì Me lo sia pigliato Per un pochino ragionare Su chi fossi Su cosa volevo essere Però anche il fatto di Vi giuro Vi giuro Vorrei straparlarmi Con la me Di sei mesi fa E non di sei anni fa E Cioè Dile zia dai Più Cioè Impegnati un po' Perché se sei lì in casa È ovvio che ti annoi Cioè È ovvio che Che poi dopo Appunto Il fatto che Vai avanti Ti rendi conto Però C'è anche giusto Che tu abbia visto Quella cosa lì Per dire Ok Ho sbagliato E so che non la devo più fare Cioè Non so come dire È giusto Che Uscite dalla confortone Io odio Mi spiace Odio Vabbè Non sopporto Non mi piacciono Le persone Non gradisco Che in Una situazione In cui sono lì Infognate Da molto tempo Che si lamentano Perché quella roba Non gli piace Quelle persone Con cui esco Non gli piacciono Rimangono lì Cioè Mi manda Fuori il cervello È difficilissimo È difficilissimo Però Mi Dico forza Ovviamente Ovviamente So Perfettamente Che Ci sono persone Che Ci hanno ansia Tutte quelle Quelle cose Anche dicevamo Quelle robe Vabbè Ma voi Non Cioè Vi sentite due Che sono sempre Nella stessa situazione No papà Zero Anche perché Non ho sociale Zero Infatti Non è quello Io parlo Di quelle persone Amo Che le vede Che sono Nello stesso Posto Sono la bolla A naso Mi padre Dice sempre Così Ma che noia Però magari Stanno a Dio Lì Ma se stanno a Dio È un altro discorso Io sto Sto dicendo Chi è Dice Oddio Mi state tutte Sulle palle Non mi piace Sparati Scusate Non ce l'ha fatta Allora Qua sono Un'altra domanda In realtà Molto Siamo a 52 Mi fa molto dire Queste due cose Che sono domande flash Hobby nascosto E guilty pleasure Hobby nascosto Io ho degli sport Che vorrei tanto fare Che mi piacerebbe Tanto fare Che Non è che sono nascoste Che non li faccio Però vorrei farli Sono belli che dichiarati È vero Belli che dichiarati Mi chiede sempre Giocare a tennis Eh Ma lei non vuole giocare Qualcuno vuole giocare a tennis Con noi Comunque Hobby Hobby Nascosto Sicuramente Non c'è niente Nascosto Anch'io Però forse lo sport Comunque È un hobby Che Ebbè Piace No anch'io L'attività fisica È una cosa che non condivido Però In senso Magari sui social Intendo dire No Le mie amiche lo sanno Perché sanno Quello che faccio Però è una cosa Che a me casa molto Mi stimola molto Lo sport È una cosa che mi piace fare Posso dirvi Una cosa Un'altra cosa Oggi sono un po' polemica Eh Un po' spicy Raga Le persone Non quelle Una volta Ogni tanto Quello ci sta Che sui social Postano Ogni volta che corrono Ogni volta che Io ti blocco Uno Perché Non so Cioè C'ho anche l'ansia Un po' di io Che invece Da due settimane Che sono sul divano Che mangio Quelli che ogni giorno Dichono Oggi ho corso Dieci chilometri Oggi ho corso 25 Che postano Che postano La cosa di Potrebbero dire Lo stesso di te Che posti Che vai per la birra Con le amiche È diverso No It's the same shit È il condividere La sua propria vita Magari Ma però Per lo sport Dimmi Che non C'è un Tipo Guarda quanto Sono amica Un triggy warning No Perché come dire Noi Oggi Facciamo Registriamo il radio E lo facciamo Ogni volta che registriamo Ok Scusate Sto zitta Cioè dai dai Ragazzi Correte pure Andate Veramente No anzi Quello una volta Tipo Ogni tanto Mi casa Cioè dico dai Zia grande Cioè Trafiga Io parlo Del quotidiano Io conosco una Non dirò il nome Che ogni giorno Posta i suoi workout Non me ne fotto un cazzo Ha un follo Hai sa ragione Cioè ecco Ecco la cosa Cioè veramente Nessuno ti obbliga A vederla Eh sì Oppure magari Il suo lavoro Cioè No Non è Il suo lavoro Guilty pleasure A me non mi piace Tanto Ed è Però alcuni è veramente Schifoso Inimmaginabile Mi piace tantissimo Mangiare nel letto Di notte No vabbè No raga Non potete capire Di notte Mi piace tantissimo Mangiare nel letto Di notte Di notte Che mi viene fame E non riesco magari A dormire Magari sto facendo E dico adesso Vado di là in cucina Mi preparo Proprio Una roba buona Mi infilo nel letto Mi guardo Una serie Ma mangiare E mangiare Alle tipo 4 di notte Mi scrofano Ma è strano Tipo che ore? Non sto capendo Tipo cosa cucini? Tipo paste Ciao Sto cucinando una pasta Sono le 4 di notte No se vuoi le testa Mangio alla piadina Tanto perché sono Tanto facili Però spesso Magari non ci sono Proprio tutti gli ingredienti Che gradiscono Nella piadina Tipo se non c'ha mai Resi la piadina Non la faccio Cioè Sei chiaro La pasta Mi piace tanto Pasta col burro E parmigiano Mi piace tanto Ma se ci sono Delle vendine Dei dolci A me piuttosto Più che mangiare Quando ho tanta sete Di notte Prende Attaccarmi una bottiglia Vabbè però quello non è Un guilty pleasure Minchia sono guilty pleasure Io come mi sono svegliata Stamattina Mi sei rivalutata Però non lo faccio mai A casa tua Eccolo L'ho detto Fica ma tutto il mio cibo Che compra Non lo faccio mai Però due biscotti Io come mi sono svegliata Nuda davanti allo specchio Raga A cantare Con una marta foto Così Io se Vi giuro Qualcuno mai Dovesse vedermi Potrei morire Io ma proprio Anna Montana Faccio Nuda Sharp E cose bellissime Sharp E anche tacchi A volte Non nuda però È strano quello Beh però sono belli Tacchi Perché allunga le gambe Vabbè dai raga Sto scherzando Voi non l'avete mai fatto Nuda no Mi stiamo vestendo Provate un tacco No Il reggiseno Sì Non le 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 In intimo Ti fa In intimo Col tacco No Magari sono con le cuffie Noi Quando siamo Allora Cazzo Dicono che merda Vi piace Ho fatto tutto La sola Tutto Assurdo Inizio Conclusione No Inizio Svolgimento Svolgimento Conclusione Va bene Noi vi ringraziamo Che puntata però Dai ci sta No è veramente bellissima È proprio da domenica Sì cioè Io spero che Ecco sì Che vi abbiamo accompagnato Che vi sia arrivato qualcosa Che vi sia arrivato Iscrivetevi Abbiamo preso molti spunti Che comunque Venivano fuori Da un sacco di tempo In cui magari Non facciamo una puntata intera Esatto Però così A me piace molto questo format Fateci sapere se a voi piace È piaciuto Iscrivetevi 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 al canale E Ok Ognuno dice Posso dire Posso Posso fare questa cosa qua Che Ho letto su Pinterest oggi Ognuno Prima di salutarci Dice una cosa Per cui è stata Grata Questa settimana Inizio io Sono stata Molto grata Ora piango Questo venerdì Ho avuto Una giornata Bruttissima Sono molto grata Che ho Pigliato Che ho la Diciamo Possibilità Di pigliare Questo meraviglioso Italo Che in un'ora Mi ha Catapultato Da voi Quella cenetta Bellissima Che appunto Era due giorni fa Per me è proprio È stato Veramente un toccasana E sono molto Grata Ci fa tanto piacere Bellissimo Io sono Molto grata Dei miei compagni Di università Bello Bello Mi hanno accompagnato In queste settimane Molto impegnative Però li voglio molto bene E ci capiamo molto E sono molto felice Di averli incontrati Bello Peri Io sono molto Grata Di un weekend Passato In armonia Con tutti Compresi I membri Da mia famiglia Che è stato Molto bello Abbiamo fatto un bel pranzo E sono molto grata La serata di ieri Perché mi sono Veramente Tanto divertita E dell'alcol Che è Intrato Mi sono molto divertita Che è un punto debole Come suggeriva Lollo L'alcol Comunque voi scherzate Ma è veramente un punto debole Purtroppo Va bene ragazzi Vi estramiamo Andiamo a bere una birretta No E va appunto Dopo questo Andiamo a bere birretta Dai Grazie mille A tutti Ciao Un'ora Spaccata Ciao Ciao